Dopo le installazioni delle eco-isole nelle frazioni, ha raggiunto un risultato importante, 82% di raccolta differenziata? Sì, assolutamente. Solo nel primo mese abbiamo raggiunto l'82% di raccolta differenziata, quindi di differenziazione dei prodotti. Abbiamo un monitoraggio costante all'interno delle eco-isole. Complessivamente siamo altrettanto soddisfatti perché sul territorio comunque si è arrivati ad oltre il 72% di raccolta differenziata. Contestualmente, diciamo, a tutte le iniziative anche volte a spiegare, a sensibilizzare i cittadini sul tema. Speriamo di riuscire a mantenere, chiaramente con la situazione di emergenza sanitaria, verosimilmente queste percentuali si abbasseranno in questi mesi che seguono. Ma siamo certi che la strada che stiamo solcando e percorrendo è quella giusta. Prossimi progetti futuri? Già abbiamo installato, accanto ad ogni eco-isola, abbiamo firmato una convenzione con Umana per la raccolta degli indumenti usati. E poi verranno installate le sei eco-isole che mancano nel centro storico per i rifiuti dei commercianti, per i rifiuti in realtà legati al commercio ma di quelle attività ad alta produzione di rifiuti, quindi bar e ristoranti. Pensiamo di approfittare, sono già pronte, sono arrivate. Siamo in attesa di un parere per un'installazione in via d'annunzio, ma crediamo di installarle nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane, proprio anche approfittando della chiusura parziale delle attività e potendo lavorare al contestuale ritiro dei bidoni usati. Grazie.